Papà, giacca e camicia sono pronti! Sophie! Cos'è? Un regalo. Apri. Posso far vedere il fotografo del mio album? Pronto? C'è quella foto scattata in Puglia. Sì, papà. Niente chiacchiere, niente album. Mamma, ci sei? Il fotografo arriva fra dieci minuti. Io fra cinque minuti sono pronto. Bene, allora vado a chiamarle. Mamma, ancora non hai fatto? Una cosa ti avevo chiesto. Una! Mamma, perché non apri la porta? Mamma, stai bene? Mamma, per favore, apri la porta, basta! Eh, ma che hai fatto?